è filmato dentro lì venerdì cosa viene fuori cos'è che c'hai una una chicca una chicca chiamasi una perla una perla per i ciri e ogni tanto la strada che più da chi in poi che strada non c'è di lì e adesso andiamo su seve guarda che ti abbiamo fatto ti ha fatto fare quello alto non quello dell'altra volta quello a rischio guarda dentro a chi cosa c'hai di lungo cosa c'hai di lungo per arrivare dentro anche un adesivo del motoclub quello lascerò lì ma ce n'era anche una qua però in piedi adesso come adesso è già tanto che l'ho vista in libretto ancora? un'altra volta quella lì della bottiglietta è il massimo grazie